Ben ritrovati per una nuova puntata di Coldiretti Fles da Michelangelo Pellegrino. La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha lanciato l'ultima fase negoziale sulla riforma della politica agricola comunitaria, la cosiddetta PAC, in collaborazione con la neopresidenza lituana dell'Unione Europea. Vediamo il servizio. Grazie a tutti. In questi giorni sono iniziate le riunioni per la stesura del testo negoziale sui punti della riforma della PAC rimasti fuori dall'accordo raggiunto dai capi di Stato e di Governo lo scorso 26 giugno. Punti che riguardano la convergenza esterna, l'avvicinamento del livello degli aiuti tra produttori degli Stati membri, la riserva in caso di crisi, la flessibilità tra i finanziamenti UE alla produzione agricola e quelli per lo sviluppo rurale e il livello del cofinanziamento nazionale. Rinnovato il vertice di Giovani Impresa Piemonte, Valentina Binno, già delegata provinciale ad Alessandria, è la nuova delegata regionale. Vediamo insieme la scheda. Valentina Binno è la nuova delegata Giovani Impresa Piemonte, già delegata provinciale di Alessandria, eletta all'unanimità dall'Assemblea dei Giovani in rappresentanza di tutto il territorio piemontese. Il suo incontro con l'agricoltura è avvenuto una decina di anni fa dopo aver conseguito il diploma all'Istituto Tecnico per Geometri. Coniugata, due figlie, ha scelto di dedicare la propria professionalità nell'azienda agricola di famiglia a indirizzo zootecnico con allevamento di suini. Cambiamo argomento, parliamo di Lola Cobb, la neonata cooperativa costituita in seno a Coldiretti Piemonte per fornire alle aziende associate la possibilità di conferire le vacche a fine carriera con il fine di valorizzarle tramite un sistema assolutamente trasparente. La parola a Marcello Pellegrino che abbiamo intervistato, che ci spiegherà gli obiettivi e i servizi offerti a tutti gli allevatori. La cooperativa è nata ad inizio aprile con la volontà di portare all'interno del mercato della vacca a fine carriera un po' di chiarezza e un po' di trasparenza. La cooperativa Lola Cobb ha stretto un accordo con il gruppo Cremonini in Alca per il conferimento delle vacche a fine carriera per la produzione di hamburger 100% italiani. La nostra attività è quella di cercare di creare una valorizzazione per le imprese, per le aziende agricole che conferiscono le vacche da latta a fine carriera all'interno della nostra cooperativa. Il nostro servizio è un servizio che permette di dare un valore aggiunto a queste vacche che è vero che hanno finito la loro vita produttiva, ma è anche vero che durante la macellazione danno comunque sempre una carne che può essere in un qualche modo valorizzata. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare un valore giusto a questa tipologia di prodotto. La cooperativa fornisce dei servizi a 360 gradi per le aziende associate. Innanzitutto il conferimento delle vacche a fine carriera al macello di ospedaletto lodigiano di Nalca. Questo avviene con il reperimento tramite l'accordo con dei trasportatori sul territorio della provincia di Cuno e sul territorio della provincia di Torino al macello di destinazione. Il trasporto viene fatto da del personale qualificato e il costo è di 30 euro più IVA per ogni singola vacca. Il secondo servizio che la cooperativa fornisce è quello della gestione delle vacche di urgenza e di emergenza. Quindi garantiamo la macellazione in azienda oppure in macelli locali per questa tipologia di animali. Quindi forniamo questo servizio in modo rapido e in modo pulito possiamo dire perché viene tutto effettuato nella massima tempestività in accordo con i servizi veterinari locali. Terzo servizio che offriamo è quello della raccolta dei vitelli baliotti. Quindi abbiamo dei trasportatori che raccolgono nei giorni di riempimento delle stalle di ingrasso questa tipologia di vitelli e vengono pagati a prezzo di mercato. Quindi in tutti questi casi la massima trasparenza per l'allevatore che si vede ricevere il listino in alca delle vacche della settimana di conferimento, la scheda di macellazione del proprio capo e le quotazioni di mercato settimanali dei vitelli. Quindi in ogni momento può determinarsi il prezzo della propria merce che viene conferita mediante la cooperativa. Per qualunque allevatore interessato il riferimento può essere direttamente il mio, quindi il mio numero di cellulare è 366-63-92624 e lo strumento per mettersi direttamente in contatto con me. Quindi quello che noi diciamo a tutte le aziende è di provare il servizio offerto dalla cooperativa anche perché assolutamente non c'è poi nessun obbligo di conferimento da parte dell'allevatore. Quindi questo è un fatto molto positivo perché nella settimana in cui vengono effettuati dei conferimenti l'azienda provando a conferire alcuni capi alla cooperativa può in modo molto veloce capire quelli che sono stati gli effettivi risultati. La Commissione europea ha respinto il progetto di decreto italiano che prevede di porre in etichetta l'origine del latte a lunga conservazione, del latte UHT, di quello pastorizzato microfiltrato e del latte pastorizzato ad elevata temperatura. Brutta notizia per gli italiani. Sentiamo il servizio. L'Italia è da anni in prima linea a livello europeo per ottenere dall'UE l'obbligo di riportare sull'etichetta l'origine dei prodotti alimentari. Nel caso del latte, spiegano esperti europei, si tratta del secondo tentativo fatto dall'Italia dal 2009. La misura è necessaria per garantire la protezione degli interessi dei consumatori, oltre a rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari. Al contrario, Bruxelles sostiene che la direttiva europea esistente prevede già un meccanismo appropriato contro il rischio che il consumatore sia indotto in errore sulla provenienza e l'origine di un determinato prodotto alimentare. Tuttavia, nella decisione di Bruxelles potrebbe aver pesato il fatto che proprio sull'origine del latte e delle carni è in corso un'ampia riflessione alla Commissione dell'Unione europea. L'IGP sulla carne di razza bovina piemontese è alle battute finali. A Carrù si svolge la riunione del pubblico accertamento per l'IGP vitelloni piemontesi della Coscia. Vediamo insieme il servizio. A Carrù, in provincia di Cuneo, si svolge la riunione di pubblico accertamento per l'IGP vitelloni piemontesi della Coscia, una tappa importante per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta sul vitellone piemontese. La richiesta era partita quattro anni fa da parte del mondo allevatoriale, che da tempo chiedeva il riconoscimento ufficiale della pregiata razza presente sul territorio piemontese. Una razza che attualmente conta 330.000 capi con importanti linee produttive uniche in Italia, come quella della vacca vitello, e che vede nella qualità della propria carne l'aspetto più importante, in quanto particolarmente caratterizzata da una minima percentuale di grasso e da eccellenti caratteristiche organolettiche. Tutti gli allevatori sono invitati il 26 settembre alle ore 17 a Carrù, presso il Cinemateatro Vacchetti. Grazie per averci seguito in questa edizione di Coldiretti Flash, che potete rivedere sul sito www.cuneo.coldiretti.it. Un caro saluto da Michelangelo Pellegrino e un arrivederci alla prossima edizione. Grazie a tutti.